Terza giornata del DEJ, Digital Entertainment Jam, eccoci qua sempre al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano. Quindi siamo arrivati a venerdì, venerdì 24 aprile e inizierà subito questa giornata con le nostre conference Tradition for Evolution, è la prima che si terrà appunto in auditorio. Subito dopo ci sarà Japan Media Art Film Festival, immagini che arrivano direttamente dall'Oriente e poi International Territory, un'altra conference. Subito dopo ci sarà il workshop di Adobe con Be a Human Pixel dove ci sarà un'interazione con il pubblico e vi faremo vedere anche questo. Ma non finisce qui perché lo sapete, DEJ significa tanta arte, esibizioni, mostre, performance e quindi si arriverà al DEJ Night con il live set. Oggi fra l'altro ci sarà tutto il backstage e tutti i live set del Mind the Band, quindi nuovi gruppi emergenti che si sfideranno con una giuria e ci sarà quindi un vingitore. Quindi partiamo con il DEJ Day di venerdì 24 aprile per arrivare al DEJ Night, siamo con Television Net, entriamo al museo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.